Il sistema consente di ricreare facilmente la propria struttura organizzativa aziendale sulla base di tre principali variabili, sedi, dipartimenti e reparti. Queste tre componenti possono essere inserite in modo indipendente le une dalle altre per consentire un'efficace gestione anche delle strutture particolarmente complesse o articolate. Inserire una nuova sede ad esempio è molto semplice. Sarà sufficiente cliccare su aggiungere ed inserire i dati della nuova sede fisica. Lo stesso procedimento può essere fatto anche per dipartimenti come ad esempio quello commerciale o quello operativo e per i reparti che possono essere considerati dei sottinsiemi più specifici di ogni dipartimento.